Sul cappello Ricordo tutti gli almenesi a quelli di Remini News che ci hanno già fatto da sponsor, ci hanno fatto pubblicità che sabato e romenica abbiamo il nostro novantesimo dell'associazione Alpini qui dal gruppo di Almeno San Salvatore Mi raccomando a tutti i nostri paesani che ci tengono gli alpini di imbandierare le strade e di partecipare alla nostra festa perché siamo veramente orgogliosi che il nostro paese partecipi a questo novantesimo che è uno dei più viecchi della storia degli alpini Grazie a tutti e arrivederci Su pei monti, su pei monti che noi saremo Coglieremo, coglieremo le stelle alpine Per donarle, perdonarle alle bambine Farne piangere, farne piangere, sospira Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti